Anche l'alliante dello Swift, Luca ha comandato i fumi e ha iniziato la display in la pittina. Serie di manovre di Luca Vertos. La Corte è stata una parola. Il nostro corso di Corte della Corte, Luca ha trovato una spazia inoltre. Il nostro corso di Corte, Luca ha trovato un paese di Bale, in questo caso a Corte, Luca ha trovato un paese di ottenere, in questo caso, nella città di Corte. Anche l'alliante di Ronde, Luca ha trovato un paese di ottenere. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.